Calcio d'inizio ai campioni d'Italia e l'azione è spinta a fondo sino ad impegnare Bugatti. Ma ben altro è il lavoro di Ghezzi. Deviata in angolo la sfresciata di Vitali, vola poi per salvarsi dal colpo di testa dello stesso Vitale. L'attesa dei tifosi napoletani è soddisfatta al decimo minuto. Calciata da Fosio la palla è finita in rete e i mortaretti salutano il col che si spera fosse significare vittoria al Vomero dopo tre mesi di delusione. Ma da questo momento Ghezzi diventa imbatibile. Eccolo parare la stafilata di Pesaola, aiutato subito dopo da Neri che sposta l'azione nell'altro campo. Poi cartirà dal piede di Amadei la palla del secondo gol. E adesso completa le sue prudezze deviando in angolo quest'altro forte tiro di Pesaola. Doccia fredda a cinque minuti per riposo, Armano ha pareggiato per l'Inter. Di male in peggio nella ripresa. Al diciassettesimo minuto Vitali si vede respingere la palla dalla traversa. E alla mezz'ora Scoglum segna a forza vuota, approfittando di un retropassaggio di tre re e della mancata presa di Bugatti. Per l'Inter è l'insperata vittoria che Ghezzi difende con bravura fino alla fine. Grazie. 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 Grazie.